100 grammi di pane, piante selvatiche e acqua sporca non bastano per sopravvivere e non bastano neanche ai bambini, alle donne e agli uomini di Gaza, dove oltre un milione di persone stanno letteralmente morendo di fame. La situazione umanitaria è disumana e inaccettabile. Tu puoi fare la differenza. Dona ora.